Se la Palazzo del Pero Arezzo e la San Zeno San Giuliano sono un freccia rossa, il nodo di Olmo in senso stretto è un accelerato su una linea lente tortuosa. E il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, ad illustrare l'esito dell'incontro con ANAS avvenuto a Roma. Sul tavolo, ancora una volta, la questione Due Mari. Abbiamo condiviso, cosa che era peraltro già nell'aria ma l'abbiamo sviscerata punto per punto, il fatto che è conveniente e opportuno non modificare il progetto già licenziato da ANAS nel 2005 e che nel 2005 ha avuto il parere favorevole del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dei Beni Culturali. Ma riguarda anche l'approvazione di tutto il raddoppio da due a quattro corsie per l'appunto da Olmo fino a Palazzo del Pero. Per quanto riguarda il tratto aretino sarà spacchettato in due lotti, uno che riguarda la Palazzo del Pero Arezzo e l'altro Arezzo San Zeno. Questo secondo avrà dei tempi necessariamente più lunghi per quegli approfondimenti progettuali che ancora oggi sono mancanti. L'altro, che di fatto è approvato in tutte le sedi, può correre decisamente di più ed è quello del quale veramente speriamo si vedranno non soltanto i lavori ma anche la chiusura in tempi relativamente brevi. Per quanto riguarda il lotto della tratta, Palazzo del Pero Olmo porterà anche alla costruzione di una bretella stradale tra San Zeno e San Giuliano. È una infrastruttura nuova che si sostituisce a un esistente ma non particolarmente efficiente e che consente di poter lavorare anche nella zona tra San Zeno e Olmo senza creare eccessivi disagi all'intera cittadinanza. Cercheremo di mettere anche questa bretella che di fatto è il primo tratto della variante la 71 nel primo lotto. Siccome non è particolarmente difficile, sì c'è un ponte sul canale maestro della Chiana ma diciamo gli ingegneri sono fatti per questo ed è già stata licenziata dal Ministero dell'Ambiente. Bene, anche questa bretella seguirà la strada come dire accelerata, veloce del tratto Palazzo del Pero Arezzo e quindi riteniamo di poterne vedere la luce io dico in tempi brevi. I tempi brevi tanto per chiarirsi non sono mesi, sono anni ma siccome si parla di cose ormai che hanno avuto i livelli di approvazione più importanti e più difficili da ottenere di fatto il risultato potrebbe cogliersi veramente in alcuni anni.